Scusi, lei è il Vescovo di Milano? No, sono l'ausiliare Ah, l'ausiliare? Sì Ma lei è quello che... Sì, si è celebrato Posso farle un'intervista? Devo andare a Milano Allora posso fare solo una domanda veloce perché io ho praticamente intervistato vari preti anche... Veloce? Sì, sì, sentimi questo Devo chiedere, come facciamo noi ragazzi ad avvicinarci alla fede, secondo lei? Innanzitutto dovete essere delle brave persone, galantuomini perché prima di essere credenti ci deve essere gente che pensa, che vuole bene agli altri, eccetera Camminando su questa strada, no? Della umanità, della razionalità un giorno arrivi perché il Signore fa grazie a quelli che sono persone che umanamente valgono Hai capito? Sei un galantuomo Sarai un bravo cristiano La ringrazio molto, gentilissimo Ciao, ciao Grazie mille Grazie mille